La cosa più importante è che abbiamo una Roma forte, che è una squadra che ha delle individualità importanti, che si è comportata quasi totalmente da collettivo. Secondo me si poteva far meglio come collettivo, come obiettivo di tutti e probabilmente lì non ci sono riuscito perché poi secondo me non abbiamo remato tutti dalla stessa parte.